Il modello Trieste in psichiatria è una realtà ormai riconosciuta a livello non soltanto nazionale. Si è sviluppato negli anni partendo dall'esperienza di Franco Basaglia ed ora è pronto per una nuova avventura. La legge Basaglia è stata la legge innovativa che ha permesso la chiusura degli ospedali psichiatrici, la loro apertura nel campo sociale, la costituzione delle cooperative sociali che hanno festeggiato quest'anno i primi 50 anni, quindi Trieste veramente esporta il modello. Della possibilità che il nostro modello attecchisca in Sudan, Camerun, Chad e Repubblica Centroafricana si è discusso durante il convegno salute mentale di comunità verso un percorso condiviso che coinvolge appunto quattro paesi in attesa di poterlo sperimentare quel modello. L'iniziativa è stata organizzata dalla sede di Khartoum della ICS. Noi come Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo teniamo il settore della salute mentale come uno dei settori fondamentali del nostro intervento nei paesi in via di sviluppo dove operiamo, non solo quello della salute mentale ovviamente ma anche altri settori che sono di competenza anche della nostra cooperazione. Non sarà certamente un passo semplice esportare questa esperienza in quei paesi, nessuno lo nasconde, anche se è altrettanto vero che ad esempio in Camerun ci si sta avviando verso qualcosa di interessante in tal senso. La salute mentale ritenuta uno stigma. I ragazzi o le persone con questa disabilità, se la vogliamo chiamare disabilità, vengono reclusi in casa o negli ospedali psichiatrici. Quindi speriamo noi che con il coinvolgimento di questi esperti che sono presenti oggi e con il nostro supporto anche finanziario ovviamente in futuro possiamo dare un beneficio a queste persone e ai paesi dove operiamo per una migliore gestione di queste problematiche. Molto sta cambiando, c'è una notevole sensibilità per quanto concerne la nascita delle comunità di supporto. Diciamo che c'è un terreno fertile per adattare il modello Trieste e il modello italiano. Molto si è fatto in Camerun a livello di associazioni, in una nazione che finora poco ha fatto per venire al loro incontro. Ora c'è una maggiore collaborazione con il governo, ma c'è anche la necessità di aumentare le risorse a disposizione.